Siamo al termine di Ipag, Sorelle Ramonda, Montecchio, Antea Vicenza, vince Montecchio 3-0. Sentiamo le parole di Laura Bortoli che oggi ha finalmente rimesso piede in campo nel partita più attesa, il derby. Lei che è anche una ex. Sì, era una partita molto importante, soprattutto per me che sono fuori ormai da due mesi. Sì, diciamo che era un mix di emozioni perché sia per il fatto che è la mia ex squadra ma anche per il mio rientro in campo che non vedevo l'ora dopo tutto questo lavoro che ho fatto e diciamo che sono molto contenta e non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Quindi soprattutto poi vincere con la mia ex squadra ancora di più. Bene, sicuramente non è stata una grande partita dal punto di vista tecnico e spettacolare. Forse l'emozione del derby ha messo attenzione a tutte le atlete, sia nostre che di Vicenza, però noi forse più cinici a chiudere alcuni scambi importanti. Sì, diciamo che abbiamo fatto sicuramente meno errori. Comunque i derby sono partiti a sé, per quanto noi possiamo sentirla visto che è molto importante per questa società. Diciamo che ce l'abbiamo messa tutta e nonostante magari le difficoltà che avevamo siamo riuscite comunque a fare molto bene e questo è l'importante, l'importante era portare a casa il risultato, quindi siamo molto contenti. Bene, ti ringraziamo e facciamo auguri ancora di buone feste a tutti i nostri ascoltatori e auguri anche a voi. Grazie mille, auguroni anche a voi. Grazie mille, grazie mille.